Fine di Euroflora e la riapertura dei cantieri a 10, a 6, a 26 sono coincise con l'inizio dei lavori dello switch off. Quindi ovviamente al di là delle trasferte più lunghe, quindi che comunque avremmo fatto per notare il personale in loco, quindi vicino ai siti di trasmissione, anche quando saremo e siamo a Savona, chi vive a Genova deve dormire a Savona. Chi farà a Genova e abita a Savona dovrà dormire a Genova, perché abbiamo il problema del rischio di non arrivare in tempi tecnici utili per poter disattivare. Considerate che la disattivazione degli impianti oltre le ore 10 può essere sanzionata dal Ministero. Quindi noi abbiamo praticamente fatto tutta una logistica con il nostro ufficio staff di prenotazioni da 20.000 a Sarzana, mediamente per 35 persone.